Sono particolarmente soddisfatta. Con la staff dell'assessorato alla cultura avevamo costruito un cartellone capace di soddisfare un po' tutti i gusti e di venire incontro anche ai diversi bagagli culturali dei pratesi, però con un obiettivo preciso, far sì che appunto i pratesi potessero vivere i luoghi più belli della città all'insegna della cultura. I numeri credo ci abbiano dato ragione, c'è stato veramente un record di presenze a quasi tutti gli eventi dell'estate. Per questo voglio ringraziare i pratesi e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del cartellone della Prato Estate, a cominciare dai dipendenti del comune, alle associazioni che con noi hanno collaborato e alle circoscrizioni, con un particolare accenno alla circoscrizione Nord, che con il suo festival ha contribuito a vivacizzare l'agosto della città.